salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi torniamo a parlare di video sorveglianza domestica e lo facciamo in compagnia di lei la videocamera della ctronis con una caratteristica veramente interessante perché è la caratteristica che rende le videocamere di sorveglianza super pratiche anche nell'installazione oltre che ovviamente nell'utilizzo che ormai lo sono praticamente tutte e quello che rende questa videocamera di sorveglianza della ctronis così semplice da installare è l'attacco e 27 quindi la sua semplicità di installazione è qualcosa di esagerato e poi ovviamente come abbiamo detto le sue caratteristiche sono comunque tanta tanta roba anche per quanto riguarda le sue performance quindi fatta questa introduzione direi di non perdere altro tempo e iniziamo a vedere cosa troviamo all'interno della confezione e poi la proviamo insieme al suo interno troviamo i manuali di istruzioni tra cui è presente anche la lingua italiana poi abbiamo i fischer se vogliamo andare a fissare il supporto a vite dato in dotazione o utilizzare delle plafoniere che già abbiamo in casa e poi abbiamo lei la telecamera ctronix con attacco e 27 ed ecco qua la videocamera ctronix la andremo a posizionare qua in questa plafoniera ma prima di andare a testarla di farvi vedere tutte le sue funzioni vi dico le sue caratteristiche principali allora lei una telecamera di sorveglianza motorizzata è in grado di ruotare fino a 355 gradi quindi siamo vicini ai 360 gradi di rotazione quindi praticamente riesce a vedere dappertutto ha una telecamera 2,5 k 4 megapixel ha un grado di impermeabilità ip66 quindi può stare tranquillamente all'esterno e come si può vedere è dotata di led di illuminazione che gli permettono di avere la visione notturna a colori però c'è la possibilità anche di non utilizzarli e di avere la visione notturna ad infrarossi quindi in bianco e nero senza andare ad accendere i led lei si collega alla rete wifi domestica supporta sia i 2,4 che i 5 GHz del nostro modem quindi ha una doppia banda poi qua sotto abbiamo uno sportellino in gomma dove abbiamo la possibilità di inserire in questo slot una micro sd per registrare video e foto la micro sd supportata è fino a 128 giga poi qua sotto abbiamo anche il tastino del reset che è quello che vi consiglio di andare a premere prima di andare a fare l'attivazione di questa videocamera di sorveglianza ma anche nelle istruzioni è specificato perché comunque come avete visto le istruzioni sono comunque in lingua italiana quindi queste sono tutte le sue caratteristiche principali ma adesso direi di provarla e di farvi vedere come funziona l'applicazione e quali sono le opzioni che possiamo andare a configurare all'interno dell'applicazione per prima cosa andiamo ad installarla nella plafoniera e poi la testiamo insieme perfetto avete visto che lei ha iniziato a muoversi perché comunque ha ricevuto l'alimentazione e ha fatto il suo processo di inizializzazione a questo punto come vi ho detto la cosa principale da fare è andare a premere il tastino di reset che trovate sotto la videocamera di sorveglianza ovviamente io l'ho già fatto voi fatelo quando l'andate ad avvitare gli date l'alimentazione per la prima volta così lei fa un reset dopodiché l'accoppiamento con lo smartphone è davvero davvero semplice adesso qua in sovraimpressione state vedendo appunto il procedimento che poi è quello indicato anche nel libretto di istruzioni che ha la lingua italiana come abbiamo detto ed è davvero semplicissimo una volta che avete accoppiato la videocamera di sorveglianza con il vostro smartphone avete la possibilità di vedere live quello che succede quello che lei inquadra e la possibilità di andare a modificare tutte le impostazioni della videocamera di sorveglianza quindi adesso prendo lo smartphone e iniziamo a guardare l'applicazione insieme ok a questo punto non resta che entrare nell'applicazione che come abbiamo detto si chiama ctronix pro disponibile sia per us che per android a questo punto avete la possibilità di accedere direttamente alla videocamera io l'ho chiamata giardino uno la può chiamare come cacchio cia voglia però l'importante che l'andate a riconoscere perché comunque potete associare più videocamere ovviamente non è che una sola è gestita dall'applicazione l'applicazione gestisce tutte le videocamere di sorveglianza della ctronix quindi potete avere più videocamere come questa o altri modelli sempre della ctronix gestiti dall'applicazione cliccandoci sopra abbiamo la possibilità di vedere subito la live infatti vedete che lei mi sta già inquadrando da sopra in alto a destra abbiamo un ingranaggio cliccandoci sopra entriamo nelle impostazioni allora è in alto abbiamo la rete wifi a cui è collegata sotto abbiamo la possibilità di cambiare la password dopodiché abbiamo impostazioni allarme queste sono impostazioni interessanti e necessarie per una videocamera di sorveglianza quindi facciamo gestione notifica degli allarmi perfetto ricezione allarme push cosa vuol dire che ovviamente andando ad attivare riceveremo le notifiche quando lei andrà a rilevare un movimento quindi ci arriverà una notifica quasi in tempo reale del movimento che lei ha rilevato poi sotto abbiamo la possibilità di dare un nome appunto alla videocamera di sorveglianza poi sotto abbiamo allarme di rilevamento del movimento che appunto è la funzione di rilevare il movimento di un soggetto che possiamo attivare o disattivare perché comunque questa non è che va di pari passo la notifica di rilevamento può esserci e disattivare le notifiche perché comunque verrà memorizzata nell'applicazione appunto la segnalazione di un movimento poi sotto abbiamo la possibilità di regolare il sensore di rilevamento quindi in questo momento la sensibilità è 50 ma possiamo andare a regolare se lo vogliamo più o meno sensibile poi sotto abbiamo altre due opzioni per andare a regolare quello che è il riconoscimento del tipo di soggetto e poi anche un'intelligenza artificiale che ci aiuta appunto nel gestire i rilevamenti di soggetto che possiamo andare a attivare o disattivare poi abbiamo regola sensibilità appunto di questo riconoscimento del soggetto poi sotto abbiamo attivazione allarme dove possiamo decidere se autonoma o del collegamento in base a quello che ci interessa di più poi sotto abbiamo impostazioni facile impostazioni avanzate dove impostazioni facile ci darà diciamo delle impostazioni di default più o meno standard mentre impostazioni avanzate avremo la possibilità di andare a configurare in maniera più personale quello che sono le funzioni della videocamera poi tornando indietro abbiamo attivazione dell'allarme qua abbiamo la possibilità di andare ad attivare e disattivare altre funzioni allora l'acquisizione micro sd io in questo momento non ce l'ho inserita ma altrimenti avrei avuto la possibilità di attivare acquisizione dell'allarme su scheda sd o registrazione dell'allarme su scheda sd una volta che l'avete inserita potete andare ad attivare e disattivare queste due funzioni se avete la necessità di utilizzarle poi abbiamo quando viene attivato l'allarme il dispositivo emette una sirena quindi se io vado ad attivarlo ok avete sentito che la sirena è già partita perché comunque adesso ogni volta che io vado a muovermi vedete lei inizia a suonare abbiamo la possibilità di selezionare anche il tipo di sirena o registrare noi un allarme personalizzato quindi possiamo decidere quello che vogliamo e anche la durata possiamo decidere se a vela di 5 10 20 30 secondi cioè quanto vogliamo che duri la sirena adesso vado a disattivarla se no continua a suonare poi abbiamo acquisizione allarme inviata anche via email oltre che alla notifica nel caso dovessimo attivare le notifiche registrazione allarme salvate su ftp questo ovviamente se uno vuole appunto utilizzare il protocollo ftp poi abbiamo numero di immagini scattate qua possiamo scegliere se una due tre immagini quando viene rilevato un movimento se lei vogliamo che ne scatti una foto due foto o tre foto poi usciamo da questa schermata abbiamo impostazioni video qua abbiamo tutto quello che sono le caratteristiche il flusso video dopodiché abbiamo impostazioni audio qua abbiamo la possibilità di attivare o meno il microfono sì perché lei comunque ha un audio bidirezionale quindi l'audio entra dalla videocamera esce dallo smartphone stessa cosa parliamo nello smartphone l'audio esce dalla videocamera quindi qua possiamo scegliere i due volumi sia in ingresso che in uscita andare a regolare quanto vogliamo sia forte sia un tipo di volume che l'altro poi sopra abbiamo sia ingresso che microfono dopodiché torniamo ancora nella schermata principale delle opzioni abbiamo registrazione piano scheda qua abilitare registrazione sulla micro sd andiamo ad abilitare la registrazione per quanto riguarda i video sulla scheda sd quindi possiamo andare a decidere se avere delle impostazioni facili impostazioni avanzate dove come abbiamo detto possiamo andare a configurare praticamente tutto anche i giorni della settimana gli orari ci abbiamo una possibilità infinita di modifiche e di personalizzazione per quanto riguarda le nostre abitudini personali poi abbiamo impostazioni scheda sd abbiamo vedete la capacità totale la capacità disponibile in questo momento è zero perché non è inserita all'interno della videocamera di sorveglianza poi abbiamo impostazioni ora dove ovviamente andremo a prendere quello che è l'orario del dispositivo quindi facendo sincronizza con il telefono sono andato ad impostare sia l'ora che la data che c'è all'interno del mio telefono quindi salva e ho salvato appunto sia la data l'ora che quello che è il fuso orario che ho nel mio telefono dopodiché abbiamo impostazioni predefinita quindi ci riporta la telecamera come era all'origine e poi abbiamo informazioni sul dispositivo dove abbiamo la possibilità anche di fare l'aggiornamento firmware se io faccio controllo aggiornamento e vedete avete già l'ultima versione però da qua potremo aggiornare quando sarà disponibile il firmware della videocamera di sorveglianza poi queste sono tutte le impostazioni che abbiamo appunto all'interno del menu di questa applicazione ma poi abbiamo un menu qua sotto quello grande sotto alla live abbiamo la possibilità di disabilitare l'audio la possibilità di abilitare disabilitare il microfono che per attivarlo basta tenerlo premuto perfetto se io lascio si interrompe ma se parlo sentite che esce dalla videocamera l'audio poi qua vado a far partire dei video che andranno a registrarsi direttamente nello smartphone stessa cosa per le foto se io vado a cliccare qua vedete istantanea salvata e l'avrò salvata direttamente nello smartphone poi facendo uno slide abbiamo la possibilità di andare a muovere quello che è la videocamera di sorveglianza quindi vedete che io posso andare a ruotare posso andare ad alzarla e ruotarla verso destra o verso sinistra così mi vado a muovere verso sinistra se faccio così vado a muovermi verso destra e poi ho la possibilità anche adesso vi faccio vedere vado verso la tartaruga che ho nella piscina mi alzo un attimo ho la possibilità di andare anche a zoomare andando cliccare il più vedete che riesco andare anche a zoomare stessa cosa se vado a fare meno vado a allontanarmi da quello che è l'inquadratura poi facendo ancora slide o alcune altre funzioni abbiamo la funzionalità specchio per quanto riguarda l'inquadratura poi abbiamo zoom ottico ma questa videocamera non è dotata di zoom ottico ma solo di uno zoom digitale poi abbiamo posizione preimpostata che la posizione geografica in cui lei è stata posizionata poi abbiamo regolazione del volume che sono gli stessi volumi che abbiamo visto anche all'interno del menu prima poi abbiamo modalità visione notturna questo è importante perché comunque le videocamere di sorveglianza la sua funzione principale il suo utilizzo è spesso di notte qua vedete possiamo lasciare intelligente quindi deciderà lei se darci una visione a colore se darci una visione in bianco nero ad infrarosso o se invece non attivare nessuna delle due perché comunque non è buio o non c'è abbastanza buio e lei lascia appunto l'inquadratura base quella classica che stiamo vedendo anche in questo momento quindi senza entrare in una modalità notturna sarà lei a dirci o altrimenti potremmo andare noi a dirgli ordinario si attiverà in modalità di infrarosso se invece facciamo colore lei andrà ad attivare sempre quando è buio i led di illuminazione per darci un'immagine a colori lasciamo intelligente torniamo indietro abbiamo l'ultima funzione che è in seguimento intelligente sarebbe una sorta di active track per intenderci lei una volta che ha agganciato il soggetto lo dovrebbe seguire però vi dico subito che lo fa in maniera un pochino lenta allora se il soggetto si muove piano lo riesce a seguire altrimenti lo perde comunque adesso vi faccio vedere allora lo vado ad attivare mi abbasso vado ad inquadrarmi quindi adesso mi metto davanti alla videocamera a questo punto lei mi aggancia infatti vedete che con un rettangolo mi va a evidenziare quindi se io mi sposto lei ruota però in maniera lenta quindi se io mi muovo in maniera veloce mi perde vedete che adesso lei mi sta seguendo però in maniera molto lenta se io mi sposto lentamente mi segue però se mi sposto veloce ovviamente non mi segue più perché comunque stiamo parlando di una videocamera di sorveglianza low cost e adesso non parliamo della videocamera di sorveglianza da cifre incredibili perché poi arriviamo anche al prezzo che secondo me è davvero interessante adesso vedete che lei mi ha riagganciato con il riquadrino verde che mi sta segnalando che sono stato rilevato quindi vado a disattivarlo allora questa è tutto quello che in grado di fare lei la videocamera di sorveglianza della citronix secondo me è una videocamera di sorveglianza ottima soprattutto per la praticità di installazione perché basta avvitarla e funziona quindi è una semplicità incredibile non bisogna trapanare non bisogna andare a posizionare niente non bisogna ricaricare le batterie perché comunque lei è sempre alimentata come una lampadina quindi è davvero di una praticità assurda l'applicazione avete visto è semplicissima andare a configurarla con lo smartphone altrettanto perché comunque le istruzioni sono semplici ma poi basta seguire quello che ci dice il telefono ed è tutto super semplice l'importante è andare a fare il reset all'inizio e dopo tutto è in scioltezza ma adesso è arrivato il momento di parlare di prezzo perché comunque la cosa che interessa oltre alle caratteristiche quando uno deve acquistare qualcosa è anche il prezzo lei è venduta spesso su amazon quasi sempre intorno ai 60 euro poi può variare perché comunque come sapete amazon muove tanto i prezzi poi tante volte ci dà il coupon da applicare quando siamo all'acquisto del prodotto è veramente il suo prezzo però si aggira sempre intorno ai 60 euro e vi assicuro che li vale tutti perché comunque ragazzi 60 euro è il suo dovere lo fa benissimo perché può stare all'interno all'esterno è semplice da installare cioè veramente secondo me è tanta tanta roba appunto per tutto quello che ci viene dato e la cifra secondo me è davvero super competitiva è il marchio citronix è un marchio che ho già portato qua sul canale con una versione 4g col pannello solare e le trovo videocamere sorveglianze ben fatte cioè per un rapporto prezzo prestazioni qualità dei prodotti le trovo molto molto valide quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione di lei la citronix con attacco e 27 vi è piaciuto l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità anteprime spoiler anche dire è arrivato uno spoilerino sempre se vi va ragazzi iscrivete al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale anche di lei ovviamente quando ci saranno degli sconti la trovate sicuramente oltre che adesso qua sotto trovate il link di amazon per dargli un'occhiata o se la volete acquistare ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial o novità ciao al prossimo video